Ciao a tutti, Vuelta a Espagna 2021, il percorso. Torniamo quindi ad occuparci di ciclismo e in particolare come dice appunto il nome del mio canale di Grandi Giri e partendo appunto andando a vedere quale sarà il tracciato delle 21 tappe della Vuelta di Spagna che partirà il prossimo 14 agosto tra 4 giorni. Poi in un successivo video tra un paio di giorni vedremo anche chi saranno i protagonisti al Via, i protagonisti al Via che saranno tanti e di alto livello. Ecco da questo punto di vista diciamo che la Vuelta generalmente bisogna dire che ha una start list superiore a quella del Giro, questo perché molti corridoi non vanno al Giro per paura di compromettere la preparazione per il Tour de France, fermo restando che il Giro a livello di prestigio rimane indubbiamente superiore alla Vuelta. Se si chiede a un qualsiasi corridore, non spagnolo, se preferirebbe vincere il Giro oppure la Vuelta, lui sicuramente risponderà che preferirebbe vincere il Giro. Ma andiamo a vedere comunque quello che sarà il percorso della Vuelta. Iniziamo dalla prima tappa, un cronometro individuale di 7,1 km, non piatta, c'è questa salita di terza categoria all'alto del castiglio. Questa prova si disputa nella terra, nella località di Burgos, dove si è disputata pochi giorni fa la Vuelta a Burgos. Una Vuelta a Burgos che ha visto il successo di Michelanda davanti a un ritrovato Fabio Aro. Un cronometro non pianeggiante, come potete vedere, in virtù della presenza dell'alto del castiglio dopo 2,5 km di gara. Era da tanto tempo che la Vuelta non iniziava con un cronometro individuale e un cronometro che vedrà quindi le prime differenze tra gli uomini di classifica. Andiamo avanti a vedere ora la seconda tappa. Seconda tappa, eccoci qua. Seconda tappa da Caleruega a Burgos, ancora quindi si resta più o meno in questo territorio. 166,7 km, poco da lì, tappa completamente pianeggiante, anche se si rimane sempre una quota abbastanza importante, 700-800 metri di altitudine, però questo poco conta in realtà. Tappa sicuramente per velocisti. Andiamo ora a vedere la terza frazione. Terza frazione. Da Santo Domingo de Silos a Espinosa de Rosmonteo, Spicon Blanco, ecco, il primo rimo in salita. L'abbiamo visto proprio la Vuelta a Burgos qualche giorno fa. Romain Bardet era riuscito a fare la differenza, era di posti in solitudine. Poi Bardet ha perso la Vuelta a Burgos a causa di una caduta il giorno successivo, problemi a schiena per lui, e quindi ha ceduto nell'ultima tappa con l'arrivo a Laguna Sdeneda. Picon Blanco, una salita molto dura, e in precedenza non c'è molto altro a segnalare, sì, c'è questo GPM di terza categoria, quest'altro, l'altro de Bocos poco prima di ascesa finale, ma i big attaccheranno chiaramente solamente nell'ultima salita. Ecco qua l'ultima salita, come potete vedere, una salita di circa 7 km, con una pendenza media del 9,3%, punta addirittura del 18, ecco, 7,6 km la lunghezza dell'ascesa per esattezza. Vedete, appare un inizio abbastanza soft, e poi vedrete però con pendenze costantemente intorno al 9,10, anche con punta del 18%, una scesa indubbiamente molto dura, e siamo solamente al terzo giorno di questa Vuelta. Andiamo a vedere la quarta tappa, quarta tappa da Elburgo di Osma a Molina di Aragon, 163,9 km, tappa per i velocisti, però attenzione, perché come potete vedere il finale è in leggera salita, e quindi i velocisti fui probabilmente rimarranno tagliati fuori da questo traguardo. Andiamo quindi subito alla quinta tappa, quinta tappa da Tarancona ad Albacete, e qui poco da dire, tappa completamente pianeggiante, probabilmente la tappa in assoluto più facile di questa volta, 184,4 km, sicuramente arriva in volata. Sesta tappa, da Rechegna all'alto della montagna di Cullera, e questa sembra una tappa per pianeggiante, e per lunghi tratti si gareggia praticamente a livello del mare, è però l'ultimo chilometro in salita. Una salita con una pendenza intorno al 9%, un arrivo molto adatto agli scattisti, probabile anche qualche piccolo distacco tra gli uomini di classifica, quindi gli uomini di classifica dovranno certamente rimanere davanti nelle fasi finali di questa corsa. Andiamo ora a vedere la settima tappa. Settima tappa, tappa di montagna, 6 gran premi della montagna, da Gandia al Balcone di Alicante. 6 gran premi della montagna in verità non durissimi, siamo nelle zone, diciamo, intorno alla Covatiglia, intorno all'alto d'Aitana, e queste salite sono affrontate spesso nelle tappe che si sono concluse poi al termine di una scesa molto più lunga all'alto d'Aitana, qui invece il traguardo è posto a Balcone di Alicante, c'erano comunque 3670 metri di dislivello, ecco qua, andiamo a vedere alcune delle salite di giornata. Il puerto di Alicuna che però è posto molto lontano al traguardo, è la prima salita di giornata, sicuramente partirà una fuga di uomini importanti, pretenta pendenza addirittura con una punta del 17%, però in realtà tutto si deciderà nell'ascesa finale, un'ascesa finale che non è lunghissima, di 8,4 km, però gli ultimi 4 come potete vedere sono molto impegnative, con pendenza sempre intorno al 10% e una punta del 14%, mentre invece la prima parte della salita non è durissima, infatti la pendenza media è del 6,2%. Comunque il secondo vero arrivo in salita dopo quello di Pinon Blanco. Andiamo a vedere ora l'ottava tappa, da Santa Pola a La Manga del Mar Menor, diciamo che si aggiungono con Alba Sete per essere la tappa più facile di questa volta, sicuramente ci sarà un'arrivo in volata anche in questa occasione. Andiamo ora a vedere la frazione successiva, la frazione numero 9, che invece vede un'arrivo in salita all'alto dei vele figue. In questa zona si arrivò nel 2009, viste il rider Ejdal, che era in fuga, e non siamo molto lontani da Madrid. Da prima, a metà percorso c'è questa alta ascesa molto lunga, l'alto collato è venta Luisa, che presenta delle pendenze anche molto importanti nella parte centrale, questi 5 km con pendenza media intorno al 10%, in realtà l'ascesa è lunghissima, 29 km con lunghi tratti di falso piano, anche le gira discesa, c'è solo questa parte centrale molto dura, ma comunque tutto si deciderà sull'ultima ascesa, l'ultima ascesa che presenta i tratti più 2 all'inizio, nei primi 5 km, che presentano pendenze sempre intorno al 9-10% per lunghi tratti, poi spiana un po', pendenze del 6-7% invece negli ultimi 7 km, complessivamente, come potete vedere, un'ascesa di 13,2 km con una pendenza media del 6,4% e massima del 15. Comunque, terzo vero rinun salita di questa volta. Andiamo ora alla decima tappa, da Roquetas de Mar a Rincon della Vittoria, c'è questa salita di seconda categoria, il quarto della Macar, che è una salita che sicuramente taglia fuori i velocisti, vedremo se ci sarà una fuga da lontano che arriva al traguardo, oppure se al traguardo, oppure se a giocarsi sarà un gruppo di 50-60 corridoi, comunque comprendente tutti gli uomini di classifica, e i velocisti che tengono bene su salite come questa, che è posta a 17 km di al traguardo, una salita che sembra essere piuttosto impegnativa, non abbiamo altimetria specifica della stessa, però, insomma, si arriva a quota 612, partendo quasi dal livello del mare, quindi una salita che sicuramente provocherà delle differenze, quantomeno per quanto riguarda i velocisti. Andiamo ora a vedere la frazione successiva, tappa numero 11, tappa numero 11 con partenza da Antechera e arrivo a Val de Peni al de Haen. Questo è un arrivo che si è affrontato più volte, diciamo circa dieci anni fa, hanno vinto corridori come Aperigo Anton, come Pulido Rodriguez, come Daniel Moreno, perché l'ultima strappa è molto dura, preceduto dal puerto dello Kubin, perché gli ultimi due chilometri sono, presento, pendenze superiori al 10%, anche punte del 15-18%, un arrivo che provocerà anche delle differenze, sia pure che ovviamente non abissali, tra gli uomini di classifica, tra l'altro complessivamente vedete il percorso piuttosto frastagliato, anche nelle frazioni precedenti, una tappa in cui gli uomini di classifica dovranno certamente stare davanti, anche in questa occasione. Abbiamo detto la vittoria di Anton Rodríguez e Moreno, quindi uomini di classifica importanti per quanto riguarda l'economia della vuelta. 12esima tappa, da Haen a Cordoba, c'è l'alto del San Geronimo e l'alto del 14%, si chiama proprio così la salita, alto del 14%, è stato affrontato più volte alla vuelta, non ha mai fatto grande selezione dagli uomini di classifica, però va detto, sebbene presenta queste punte di pendenza, appunto del 14%, anche qui, probabile una fuga oppure probabile un arrivo in volata ristretta, però probabilmente a stare per la fuga, visto anche perché sono due salite importanti affrontate al finale, c'è anche l'alto del San Geronimo. Andiamo a vedere ora la tappa numero 13, e anzi 13, si, esattamente, tredicesima tappa, da Belmets a Villanueva della Serena, e qui poco da dire, tappa piuttosto lunga, 200,7 km, ma che con ogni probabilità si concluderà in volata, e quindi poco altro da dire, andiamo a vedere quindi la tappa numero 14, che invece si concluderà con un nuovo in salita, si parte da Don Benito, e si arriva a Pico Williwerkas, a un'altitude di 1580 metri, la salita finale non è durissima in verità, è molto più impegnativa questa, l'alto del correlato del Ballesteros, che però è molto lontano dal traguardo, insomma difficilmente i big si muoveranno già qui, vedete questa penultima salita, è una salita breve, ma con punte anche del 20%, una pendenza media addirittura del 14, 2,8 km, la lunghezza di questa salita, mentre invece la salita finale, in realtà non è durissima, una pendenza media del 6,2%, piuttosto costante, solo in questa parte centrale, si arriva a sfiorare il 10%, con una punta però del 15%, posta proprio in vista del traguardo, quindi il tratto più duro e l'ultimo, i corridori di classifica dovranno stare attenti, a dosare le forze proprio nel finale, quando andranno a caccia nella vittoria di tappa, probabilmente ci sarà una volata ristretta, comprendente tutti gli uomini di classifica, dovranno cercare di partire nel punto giusto, per arrivare a tagliare il traguardo, con le braccia alzate insomma, andiamo alla frazione successiva, la frazione successiva, tappa numero 14, da Navalmoral di L'Amata a El Barraco, dopo ci sarà il giorno di riposo, dopo questa frazione dall'alto, una frazione di montagna, anche se in verità le salite non sono propriamente durissime, c'è l'alto della Centenera, poi seguito in rapida successione al puerto San Bernardo, poi la salita molto lunga del puerto de Millares, discesa, un tratto di falso piano, due decine di chilometri, l'ultima salita non durissima, il puerto de San Juan de Nava, e poi si arriva il Barraco, il Barraco che era la patria del compianto José María Ximénez, che l'abbiamo visto rivaleggiare anche con Marco Pantani, accomunati entrambi poi da un tragico destino, l'alto della Centenera, la prima salita di giornata, non è comunque durissima, la parte più impegnativa è negli ultimi 5 chilometri circa, comunque una salita molto lontana dal traguardo, mentre a seguire c'è il puerto de Millares, che è una salita comunque molto lunga, di 20,4 chilometri, con una pendenza però che è solamente del 5,4%, una pendenza molto costante, con una punta dell'11 nella fase iniziale, però diciamo che il fatto che sia una salita molto lunga, e che dopo ci sia il giorno di posto, potrebbe comunque incoraggiare qualche attacco di uomini di classifica, e però staremo comunque a vedere. Andiamo alla tappa successiva, la frazione numero 16, da Laredo a Santa Cruz de Bezzana, e anche qui poco da dire, tappa per velocisti, che avranno così l'occasione di sputarsi il successo, in una delle ultime occasioni per l'oro dedicata. Andiamo ora alla diciassettenima tappa, da Unker a Lagos de Gopadonga, Lagos de Gopadonga è una salita classica della Vuelta, negli anni 90, anche inizio anni 2000, si affrontava praticamente ogni anno, adesso comunque si affronta abbastanza spesso, in molte occasioni è stata l'unica salita di giornata, mentre qui come potete vedere ce ne sono oltre tre, in particolare c'è la collata, la cogliata romena, che si affronta per due volte, però va detto che è una salita piuttosto lontana all'altaguardo, e come potete vedere c'è un lungo tratti, c'è un lungo tratti di scese anche di pianura, soprattutto tra una salita e l'altra, quindi Bic e scatenando la bagarre solamente a Lagos de Gopadonga. Qui si è arrivati l'ultima volta nel 2018, vinse Thibaut Pinot, nel 2016 invece ad esempio vinse Nairo Quintana, che fu un successo importante con il colombiano, che costruì lì il suo successo nella classifica finale della Vuelta, riuscendo a staccare il suo diretto rivale Chris Froome. Andiamo a vedere come sono le salite di giornate, Cogliate Romena è una salita dura, la salita di 7,6 km con una pendenza media del 9,3% e con punta del 14, vedete molto dura soprattutto nel tratto centrale, e Lagos de Gopadonga è una salita che conosciamo tutti, 12,5 km con pendenza media del 6,9% e con punta al 20, diciamo che è molto dura fin dall'inizio e in questo tratto centrale raggiunge pendenze maggiori, poi negli ultimi 5 km c'è l'alternanza tra tratti di salita anche piuttosto duri, ed altri anche in leggera discesa, in particolare anche sul traguardo c'è un tratto di discesa, e poi c'è un nuovo risciacquo, si sale proprio nelle ultime centinaia di metri, per arrivare al traguardo di Lagos de Gopadonga, una salita che comunque ha sempre fatto selezione, e la farà anche quest'anno, però la tappa regina della Vuelta 2021 è la prossima, la numero 18 che andiamo a vedere, ecco qua, da Salas all'alto del Gamoniteo, una salita inedita, siamo anche qui nelle Asturie, si scalano il puerto di San Lorenzo, l'alto della Cobertoria, l'alto del Cordale, che sono le classiche salite affrontare più volte a Vuelta, e l'alto del Cordale in generale è la salita che precede l'Anglio, qui non si scala l'Anglio, però l'alto del Gamoniteo non ha niente a che invidiare, a questa salita mitica che è stata inserita nel percorso della Vuelta, per la prima volta nel 1999, appunto l'Anglio, andiamo infatti a vedere le altimetrie in dettaglio delle salite, questo è il puerto di San Lorenzo, che alterna dei tratti molto impegnativi ad altri più pedalabili nel tratto centrale, comunque vedete le pendenze spesso intorno al superiore del 10%, scusate perché che che ma c'è un fattore esterno che ha condizionato il video, e a seguire c'è l'alto della cobertoria, in cui si è arrivati anche al traguardo, una volta nel 2006, vinse Alexander Binoculo, Binoculo che poi vinse anche in classifica generale in quella Vuelta, correva nella Stana, che si era appena costituita praticamente a Stana in quell'occasione, che derivava da quella che era la onza di Manolo Saites, l'altro della cobertoria che presenta come potete vedere le pendenze maggiori nel tratto finale, però va detto che sia il puerto di San Lorenzo che l'alto della cobertoria, o cobertoria che di se voglia, sono molto lontani dal traguardo, ed ecco qua la salita finale, la terribile ascesa minare dell'alto del Grimo d'Itero, una salita di 14,6 km, con una pendenza media del 9,8%, una pendenza massima del 17%, però 9,8 considerando che c'è questo tratto non durissimo, in troppo oltre metà salita, anche i primi due chilometri non sono durissimi, per il resto potrete vedere pendenze dell'11, 10, 14, 11, 12, 10, 10, 12, 14, e il tratto più duro, proprio in vista del traguardo, 17%, una scesa che ne provoca sicuramente grandi distacchi, e probabilmente chi ne uscirà con la maglia rossa sarà anche il vincitore finale di questa volta. Andiamo ora quindi a vedere la diciannovesima tappa, da Tapia a Monforte dell'Emos, una tappa di 191,2 km, c'è una delle salite nella prima parte, diciamo più probabile la fuga rispetto alla volata, probabilmente le squadre dei velocisti saranno stanche, e in generale i velocisti a questa volta non è che ci saranno tantissimi, e quindi molto probabile che ci sia una fuga di uomini fuori in classifica. Ventesima tappa, una ventesima tappa un po' particolare, da San Cenzio a Moscasto del Viglie, diciamo per essere la penultima tappa della volta non è una tappa durissima, come potete vedere non si va oltre i 600 metri di altitudine praticamente, sebbene ci siano 5 Gran Premi della Montagna in rapida successione al finale, però il fatto che sia appunto l'ultima faccia di montagna, fa sì che sicuramente ci sarà battaglia tra gli uomini di classifica. Andiamo a vedere quali le altimetrie di alcune di queste 5 salite, l'alto del Mugas, la terza salita aggiornata è la più dura, una salita di 9,9 km, per verità non durissima, comunque con una pendenza media del 6,3% e punta del 15, la parte più impegnativa è la prima, i primi 5 km con la punta del 15, praticamente i piedi dell'ascesa, poi pendenza sempre intorno al 7,8% e poi c'è l'alto cassa delle vie su cui si conclude la corsa. Ecco c'è un chilometro molto duro tra il terzo e il quarto chilometri di salita, con pendenza del 10, anche fino al 16%, però per il resto non è una salita durissima, nella prima parte non lo è, poi c'è questa discesa, c'è questo tratto anche il falso piano, con pendenza del 2,3,5%, solo negli ultimi centinaia di metri la strada si impenna, con una punta del 9,5% proprio in vista del traguardo. E questa discesa della volta non si concluderà a Madrid, come avviene di solito, ma per sì si concluderà a Santiago de Compostela, con una cronometro piuttosto lunga di 33,8 km, con una partenza da Pardon, una cronometro non esattamente pianeggiante, ma nel complesso di Eich, possiamo dire specialisti, 634 metri di dislivello complessivi. Chiaramente se non ci saranno grandi distacchi ancora tra i big, potrebbe nuovamente essere sconvolta aggressivi a generale, in questa prova, che conclude quindi questa edizione della volta del 2021. Una volta che abbiamo dunque visto, come al solito gli arrivi in salita non mancano, ci sono però anche molte tappe per velocisti, bisogna dire, forse probabilmente di più rispetto al solito. Vedremo se l'esperimento di far disputare una ventesima tappa, con un arrivo in salita, ma non durissima potrà incrementare lo spettacolo. Ecco, nel 2019 ho fatto qualcosa del genere, con l'arrivo a Plataforma dei Gredos, e lì in effetti Tadei Progaccia diede spettacolo, andò a conquistarsi il podio, alle spalle di Rodic e Valverde, davanti al colombiano Miguel Angel Lopez, che lo precedeva appunto prima di quella tappa. Bene, questo dunque è il percorso di questa volta del 2021. Tra due giorni faremo un nuovo video in cui presenteremo i protagonisti al via, e poi faremo man mano le dirette in occasione delle tappe più impegnative per vedere come è andata in ciascuna delle stesse. Appuntamento quindi al 12 agosto, e ciao a tutti!